Musica Oggi in Matera Salianitana si è sfiorato il dramma, calciatore caduto a terra, ha perso per un attimo i sensi e qualcosa di più. È finito tutto bene, ce lo racconta Antonio Coronato. È il sesto minuto di Matera Salianitana, una sfida cominciata come una festa alla quale partecipano 7000 spettatori. Sugli sviluppi di un calcio di punizione Bernardi e Mendicino si scontrano in area, il 24enne Granata è colpito al volto, perde conoscenza, compagni e avversari si disperano e invocano soccorsi. I minuti passano, sono momenti di concitazione e spavento, il più lucido è il difensore dei Lucani Ciro De Franco che estrae la lingua dalla bocca di Mendicino per farlo respirare. È una manovra decisiva insieme all'intervento dei medici che praticano il massaggio cardiaco. Quando viene caricato sull'ambulanza l'attaccante ha ripreso conoscenza. I giocatori della Salianitana ottengono la sospensione della gara per avere rassicurazioni sulle condizioni del loro compagno di squadra, trasportato all'ospedale di Matera dove è ora ricoverato in osservazione con un forte trauma al volto. La partita riprenderà dopo mezz'ora tra gli applausi del pubblico che accompagnano l'annuncio tranquillizzante dello speaker. Applausi che vanno indirizzati anche a De Franco e ai soccorritori, protagonisti di un'azione molto più preziosa di una rete segnata per chi ha salvato una vita. Tutto bene ovviamente quel che finisce bene.